Il Partito Democratico ha una paura fottuta di andare alle elezioni, devono cambiare la legge elettorale perché se andiamo con questa elettorale vinciamo noi, allora devono cambiare e fare il super porcello e mettere delle barriere. Il Partito Democratico vuole un super porcello a noi, ma se ieri al Senato abbiamo votato per il doppio turno e chi non ce l'ha fatto passare oltre al PDL è stato esattamente Grillo con i suoi voti, ma se tu vuoi cambiare il porcello, vota come diciamo noi!